A livello psicologico se non riusciamo prima possibile a riaprire le attività commerciali, a ridare un tetto e a ricreare proprio la famiglia, il nucleo familiare, è molto complicato. Si accenderanno a breve le luci di 12 negozi che si erano spente in maniera drammatica lo scorso agosto dopo il sisma che ha colpito il centro Italia. Probabilmente riusciremo nel mese di maggio a riaprire 12 attività sul comune di Accumoli, un centro commerciale che viene fatto lungo la via Salaria, quindi daremo una speranza e sicuramente un'occasione indimenticabile per tutti per far riaprire queste attività. E nella rinascita del commercio di Accumoli ci sarà anche un po' di arezzo. Ad arredare i locali del centro commerciale Monti della Laga realizzati all'interno di container infatti ci ha pensato un imprenditore aretino. Come questa società Coristec di Parma abbiamo vinto un premio con la Confecommercio e questa unione mi è sembrata di scaturire. Naturalmente ho prospettato al mio presidente questa occasione, che diamo proprio un'occasione per aiutare le persone. Nostamente devo spendere due parole per il presidente Tosti che è stata una persona veramente, come si potrebbe dire, un rullo compressore. L'ho visto nel campo, l'ho visto e come potete vedere ci metto del tutto, però bisogna aiutare queste persone che hanno più bisogno di noi. Noi siamo orgogliosi che Arezzo può testimoniare con la propria struttura, con i primi interventi fatti a caldo, penso ai primi due congelatori donati dall'Euronics di Butali per le primissime esigenze. E come testimonia l'amico Sissiro Piantini, poi c'è il cuore degli amici che la solidarietà, oltre che da un punto di vista sentimentale, sentono di doverla anche manifestare concretamente con gli interventi materiali. Io aggiungo che intorno alle nostre botteghe, alle nostre chiese, si sono sviluppate le nostre città. Quando si chiude un negozio, si spenge un pezzo di vita sociale, quando si aprono nuovi negozi c'è gioia e vita intorno. Quindi sono veramente molto felice. La raccolta di attrezzatura per allestire negozi è ancora aperta.